1, take 3 Azione! Ok, allora... Non azione, ma azione dai logisti Ok, partiamo direttamente da qua, vai! Ok, silenzio Azione Ok, allora... Ok, allora... Sì? Sì. 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 Da non sono. Hey, Gesi. Che ti faccio? Che cosa hai? Io mi chavo, è un'altra cosa. È un'altra cosa. È un'altra cosa. È un'altra cosa. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Stop!